Carmen Aloi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fabrizia, siamo qui a Nardo di Pace per la dodicesima edizione del Pinocchio in Bicicletta. Sì, noi come Istituto abbiamo aderito a questa iniziativa anche perché è un modo non solo per coinvolgere i ragazzi in queste attività sportive ma anche per promuovere il nostro territorio che è isolato rispetto al centro e distante anche dal centro, però ha risposto bene, tutti i comuni hanno aderito, hanno contribuito a questa iniziativa e allo svolgimento di questa giornata. Grazie 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 Grazie